Cosa c'è? Cosa c'è? A casa di mamma. O vestite? Antonietta, senta. Ha già scegliato il vestito che ti ha da mettere. Un giorno fa fu una relazione della chiesa. E perché non erano boss? E nemmeno non l'ha di tanto. Perché? Perché è morta con la pistola a mano? Non ci sa niente a fare. Non ci lo fanno portare dalla chiesa. Non ci passa? No. Grazie a tutti.